Tante le novità previste nel modello 730, già pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il cui precompilato sarà a disposizione dal 15 di aprile. Tassazioni agevolate per i dipendenti del settore privato che percepiscono premi di risultato, per i lavoratori trasferiti in Italia e agevolazioni previste dalla legge dopo di noi. Queste alcune delle novità introdotte. Ci sono previste tante detrazioni e deduzioni a favore delle famiglie che serviranno sicuramente per attenuare quella che è la tassazione, la marginalità fiscale di ogni contribuente. Hanno riprorogato le detrazioni per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura del 50%, gli interventi per la riqualificazione energetica nella misura del 65% e anche è prevista la detrazione per l'acquisto di mobili per le giovani coppie, anche conviventi, questa è una novità, conviventi almeno da 3 anni, fino a 16.000 euro di acquisto. Però sempre deve essere legato a un intervento di ristrutturazione edilizia, sempre finalizzato in questo caso alla prima casa. Queste detrazioni sono poi ripartibili in 10 anni. Altra novità ci sono sempre per i lavoratori dipendenti perché si è prevista sempre la detrutturazione per quanto riguarda i premi di produttività o i premi di risultato. Questi saranno trattati a un'imposta sostitutiva del 10% anziché all'iquota normale, IRPEF, però l'importante è che rientra tutto in una contrattazione aziendale o sindacale. Dopodiché abbiamo ulteriori detrazioni, una detrazione nuova quest'anno è per l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali che servono a controllare a distanza gli impianti di riscaldamento e gli impianti di condizionamento. Grazie. Grazie.